Buongiorno a tutti, mi fa piacere ritrovarmi in queste stanze dell'Università per parlarvi proprio del nostro Ateneo. Io sono Jessica Maffei, mi occupo di comunicazione per i musei dell'Università e mi piace un po' fare con voi una chiacchierata come se facessimo un percorso all'interno del luogo di lavoro, quello che tutte le mattine, almeno fin quando potevamo recarci al lavoro, ci ospitava. Siamo in tanti a lavorare in Università ma forse non tutti ci soffermiamo ad osservare dei particolari o semplicemente a guardare i cortili, le scale, le aule e tutto quello che rende il nostro Ateneo uno dei più belli d'Italia se non d'Europa. Ecco che la storia dell'Università comincia molto lontano, siamo nel 1361 quando viene fondato a Pavia lo Studium Generale. Questo termine latino ci fa pensare proprio ad una scuola dove ci fosse una pluralità di insegnamento, proprio l'aggettivo generale sta ad indicare questo. Una università che ebbe da subito un ottimo successo anche perché fu fondata sotto il buon auspicio di imperatore e papa e quindi ebbe da subito un avvio molto fortunato. Va detta una cosa piuttosto curiosa e cioè che per circa un secolo l'università in realtà non ebbe una sede vera e propria, ovvero non esisteva un palazzo come siamo abituati a vedere oggi che fosse la sede di questo Studium Generale. In realtà bisognerà aspettare soltanto il 1400 inoltrato perché la famiglia Sforza donasse all'università una casa trecentesca che divenne la prima sede della nostra università. Era una casa collocata in quello che oggi è corso Strada Nuova e che già in epoca viscontea sforzesca si chiamava proprio Strada Nuova e per diversi secoli, di fatto fino al 1600, sarà l'edificio che ospitava l'elezione degli studenti e dei professori. Un edificio che come possiamo immaginare con il passare del tempo avrà avuto bisogno di ristrutturazione, di interventi, infatti ci sono stati per esempio nelle 600 interventi importanti ad opera di architetti per rendere questo edificio sempre più adatto alla vita universitaria. Però c'è una ulteriore curiosità legata proprio a questo stabile, a questa casa di fatto, ovvero oggi ne rimane qualche traccia che però si camuffa forse fin troppo bene in quello che è l'attuale palazzo universitario, tanto che forse non tutti sanno che, proprio per citare una famosa frase, ovvero voi provate ad immaginare di salire al primo piano della nostra università, di recarvi nei pressi dell'aula foscolo e di portarvi in quella che è la parete esterna sinistra dell'aula foscolo. Forse avrete notato qualche volta che murate sulla parete ci sono delle ghiere di finestre, quindi proprio dei contorni di queste finestre dalla tipica architettura trecentesca e quattrocentesca che altro non sono che i resti di quello che rimane di quella famosa e antica casa. Che cosa succede? Siamo nel 1700, l'università viene completamente rivoluzionata e riformata dagli Asburgo. Pavia è una città austriaca, Maria Teresa è l'illuminata imperatrice che vuol fare di Pavia, possiamo dire, il fiore all'occhiello dal punto di vista culturale dell'impero asburgico nella sua propagine italiana e così chiama a Pavia Giuseppe Pier Marini, famoso architetto o comunque reale architetto della casa asburgica e a lui si deve il progetto della maestosa università così come la vediamo oggi. Siamo negli anni 70 del 1700 e l'Ateneo si trasforma dal punto di vista anche didattico della sua configurazione come scuola, come fonte di insegnamento ma soprattutto dal punto di vista più pratico, più visivo, si riforma dal punto di vista architettonico ed ecco che nasce l'università così come la vediamo oggi. Questo grandioso edificio costituito da tanti cortili, uno accanto all'altro, un piano terra caratterizzato da cortili porticati, il piano superiore anch'esso con degli ampi loggiati, conosciamo tutti quelli che sono i cortili a partire da questo che è il cosiddetto cortile delle statue che costituisce il biglietto da visita del nostro Ateneo, l'ingresso maestoso detto così ovviamente perché è caratterizzato dalla presenza di queste quattro statue e quindi un edificio complesso molto grande che ancora oggi presenta quelle che sono le tracce dello splendore austriaco di fine 700 e che magari se avrete piacere potrà diventare l'oggetto di una nostra prossima chiacchierata su Stanze Unipv quando vi potrò raccontare gli interventi di architetti importanti come Leopoldo Pollack e altri che costituirono quello che è l'edificio magnifico dell'Università di Pavia. Grazie.